Sono Castrone Riccardo, insegnante di educazione fisica e titolare del centro nautico denominato Rikis Tribù. Pratichiamo sport acquatici e giochi acquatici. Giochi acquatici sono gonfiabili in acqua, tipo banana, tube, paracadute essenzionale, mentre per quello che riguarda gli sport, scinautico, wakeboard, kneeboard. Effettuiamo corsi di nuoto, vela, scinautico, windsurf e kitesurf. Nello stesso tempo noleggiamo le moto d'acqua, noleggiamo gommoni, gommoni con 40 cavalli, quindi gommoni dove non è richiesto la patente nautica. Noleggiamo acquascooter, sono l'alternativa alle moto d'acqua. Il noleggio delle moto d'acqua viene effettuato a persone munite di patente nautica. Le moto d'acqua raggiungono una velocità di circa 50 nodi, quindi sono estremamente veloci, non sono pericolose in quanto non esiste un'elica esterna ma solo un idrogetto dove l'elica è intubata. Abbiamo il paracadute essenzionale, se volete volare su Rimini non è assolutamente da perdere. Arrivate ad un'altezza di circa 60-70 metri. Il volo effettivo dura circa 10-15 minuti. I gommoni che noleggiamo sono muniti di motori 40 cavalli 4 tempi, ultima generazione. Si noleggiano per un massimo di 8-9 persone. Si può noleggiare sia ad ore, sia a mezza giornata a una giornata intera. Nel capitato di Traino abbiamo la Banana Boat dove possono essere trasportate 10 persone contemporaneamente.